La mia azienda è nata nel 1972, poi è cresciuta nel tempo fino ad arrivare ai giorni di oggi che contiamo circa per l'esattezza 101 dipendenti. Si occupa di meccanica di precisione nel settore farmaceutico, della macchina automatica, tappia corona, pressa da ceramica, insomma diciamo che abbiamo acquistato la prima macchina nel 2000, ci siamo trovati molto bene, nel tempo abbiamo constatato affidabilità e precisione, quindi dopo siamo proseguiti su questa strada. Utilizzando macchine a 5 asci da circa 20 anni, le ultime generazioni di macchine ci hanno portato a un'ottima riduzione nei tempi produttivi. Il DVF 5000 di Dosen ci ha stupito per innanzitutto un fatto di ingombri che è molto ridotto. Noi abbiamo una produzione molto diversificata e questa macchina qui ci permette di cambiare la lavorazione molto di frequente con degli ottimi risultati. Noi sul DVF 5000 riusciamo a lavorare tranquillamente, particolari che vanno sul medicale, settore ingegneristico, settore aerospaziale. Con il DVF 5000 abbiamo una facilità di accesso migliore, tempi minori di carico e scarico per pezzi e facilità di attrezzamento. Il DVF 5000 ha confrontato con macchine a 5 asci giapponesi o europee o tedesche a parità di prestazioni un buonissimo rapporto qualità prezzo. L'SNX 3100 per noi è stata un po' una scommessa perché non avevamo esperienza su queste tipologie di macchine, ma essendo una macchina multitasking ci ha permesso di fare lavorazioni e produzioni anche di piccole serie, quindi di migliorare la nostra competitività nel mercato. Posso dire che abbiamo rapporti con Overmac addirittura trentennali e non abbiamo mai avuto nessun tipo di problema. Raccomanderei sicuramente l'acquisto di macchine Dozen per la precisione, affidabilità e sicuramente anche una buona assistenza. Mi chiamo Maiardi Maurizio, attualmente presidente dell'OMGM Group.